Sì, è una partita importante anche perché abbiamo sfiorato la vittoria in un campo dove in pochi riescono a imporre il gioco. Noi siamo riusciti, siamo stati bravi e con un pizzico di fortuna in più magari potevamo portare a casa anche i tre punti, però va bene così. Diciamo che contro la Juventus e altre squadre avete dovuto fare gli straordinari, oggi forse meno di altre volte, peccato, la vittoria sfumata a un certo punto ci avevate iniziato a credere. Sì, dopo il primo tempo ci credevamo, poi la Roma è entrata in campo con un altro spirito e ci siamo difesi bene, purtroppo non siamo riusciti a fare gol con le ripertenze, però va bene così, un punto va bene. Restare comunque a pescata per ricostruire ci stai già pensando? Io sono pronto, l'ho già detto anche un mese fa, lo dico anche oggi, per me non c'è nessun tipo di problema. Ivan, è un problema mentale abbiamo detto per tutte queste settimane, però forse più che mentale è di personalità. Questa squadra quando è libera mentalmente, non ha nessuna responsabilità da cogliere, riesce a fare ottime prestazioni, l'abbiamo visto a Torino e l'abbiamo visto anche a Roma. Sì, anche oggi forse fuori casa ci esprimiamo meglio e secondo me anche perché la Roma nel primo tempo ha iniziato un po' piano. Noi siamo entrati in campo convinti per fare la partita, per divertirci e cercare di mettere in difficoltà. Ci siamo riusciti, poi nel secondo tempo ci sono difesi bene e siamo ripartiti bene in contropiede, però secondo me abbiamo fatto una buona partita. Chiudiamo con una nota di carattere personale, è stata la partita degli ex Caprari in gol, ma è stato anche fischiato per Pellizzoli solo a Praulsi. Pellizzoli forse è l'unica nota positiva di questa stagione biancazzurra. No, personalmente sono contento, però io faccio parte di un gruppo e quindi è normale che una stagione così è brutta. È brutta perché potevamo magari con un po' di fortuna in più cercare di avere un po' più punti, però non è ancora finita e noi ci dobbiamo provare fino alla fine. Gianluca Caprari, soddisfazione di andare in gol nella tua Roma contro la tua Roma e forse anche un po' di dispiacere per i fischi all'uscita. Dicci, raccontaci un po' il tuo stato d'animo per tutta questa giornata, per te particolare. I fischi fanno parte del gioco, i tifosi sono liberi di fare quello che vogliono. Io per rispetto loro non ho risultato perché otto anni ho passato qui e sono stati otti anni più importanti della mia vita. Venendo alla partita, un Pescara che in pochi si aspettavano riesce a strappare un punto della Roma. Quanto c'è di soddisfazione e quanto c'è di rimpianto visto il precedente cammino? Di soddisfazione ce n'è poca perché, come dici tu, visto il precedente cammino abbiamo fatto male, male, male. Oggi siamo riusciti a strappare un punto contro una grande squadra. Chiudiamo su una cosa di mercato che riguarda te. Ci giungono notizie che da Torino Ventura ti vuole fortemente. Cosa pensi di questo e cosa ci puoi dire del tuo futuro? Fa piacere che un mister come Ventura dica queste cose. Io comunque cercherò di finire al meglio questo campionato e poi il futuro vedremo. Danilo Giannascoli, un punto di carattere tardivo per la classifica, però rende meno amaro sicuramente questo finale di stagione? Ma non sono d'accordo. Rende ancora più amaro questo finale di stagione perché comunque dimostra che 4-5 partite fa ce la potevamo ancora giocare. Se non ci fosse stata qualche decisione arbitrale in alcune partite, nell'ultima non ci fosse stata quella partita strana con il Siena, forse saremmo qui a commentare un'altra partita. È una buona prestazione comunque, la quale se fosse arrivata anche una vittoria sicuramente non sarebbe stata un furto. Facciamo il punto della situazione pensando al futuro, società, previsione, progetto. Si riparte a bilanci solidi e? Si riparte sicuramente da un buon organico, si ripartirà da un nuovo allenatore, poi dobbiamo ancora decidere chi sarà il nuovo direttore sportivo e poi noi però già stiamo lavorando per cercare di ritornare immediatamente in Serie A. Ripeto, certo che oggi il rammarico è ancora maggiore rispetto a quello di queste ultime settimane, perciò è chiaro che avremmo potuto fare meglio e purtroppo non ci siamo riusciti. È stata una stagione strana, speriamo che la prossima sia completamente diversa e che riusciamo a ridare una gioia al nostro pubblico e ai nostri tifosi. Chiudiamo con una battuta su Cristian Bucchi, al di là del punto di oggi, comunque nella sua gestione qualcosina di buono si è visto quantomeno a livello caratteriale? Cristian sta facendo un grandissimo lavoro, dal primo giorno che è entrato nello spogliatoio si è posto nel modo giusto, in un momento molto difficile, è riuscito a ricaricare la squadra, sta giocando queste ultime partite senza alcuni dei giocatori più importanti della squadra, e malgrado questo la squadra in campo è messa molto molto bene e si è giocata tutte le partite fino alla fine, perciò complimenti a Cristian Bucchi, si sta giocando questa opportunità nel modo migliore e la società comunque lo sta osservando molto bene.